Questa mattina a Palazzo San Giorgio di Campobasso è stata presentata la nuova carta d'identità elettronica, sperimentazione in atto in tutta la nazione. In costante difficoltà il pronto soccorso dell'ospedale veneziale di Isernia e il depotenziamento della struttura mette in difficoltà pazienti e personale. Il centrodestra accusa la giunta regionale di criteri e procedure opinabili nel bando di insediamento in agricoltura per i giovani, interrogazione a Palazzo Daimmo. L'Italia si prepara per i campionati europei di calcio a 6 nel mese di giugno nella Repubblica cieca, allenamenti programmati anche in Molise. Buon pomeriggio gentili telespettatori, il sindaco di Campobasso Antonio Battista e il nuovo prefetto Maria Guia Federico presentano la nuova carta d'identità elettronica, una iniziativa che si sta attivando in via sperimentale in quasi 200 comuni italiani. Vediamo. Campobasso dal 3 aprile sarà possibile richiedere nel momento del rinnovo oppure per deterioramento la nuova carta d'identità elettronica. L'ha presentata il sindaco Antonio Battista, soddisfatto di un traguardo importante. Una sperimentazione nazionale che si è praticamente conclusa, siamo tra le prime 153 città che danno ai cittadini questa opportunità di dotarsi di un documento di riconoscimento sicuramente all'avanguardia, che ha tutti i dati del cittadino, praticamente infalsificabile, contiene le impronte digitali, è utilizzabile anche per l'espatrio per tantissimi paesi oltre i paesi dell'UE e attraverso un codice a barre o anche un microchip è possibile darne immediata lettura anche da parte delle forze dell'ordine. Quindi se vogliamo è anche un dispositivo di massima garanzia per le indagini o per quello che potrebbero essere delle condizioni o situazioni legate all'ordine pubblico. Alla presentazione anche il nuovo prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, che ha sottolineato l'importante conquista di uno strumento che dovrebbe essere efficace soprattutto per la sicurezza dei cittadini. La carta elettronica, la carta di identità elettronica è uno degli strumenti messi in piedi dal governo, ovviamente per garantire anche questa sicurezza ai cittadini perché la carta di identità elettronica consente la rilevazione delle impronte digitali che come voi sapete sono molto utili ai fini delle indagini e quindi la creazione di una banca dati di cittadini ovviamente italiani e non che accedono agli uffici anagrafici e che richiedono la carta di identità è importantissimo e per la sicurezza propria dei cittadini e a noi consente di dare delle risposte sul piano della sicurezza sicuramente migliori per le ripercussioni che ho appena citato. 20 campani, tutti originari delle province di Napoli e Caserta, sono stati denunciati dai carabinieri per aver prodotto false documentazioni attestanti la loro residenza nel comune molisano di Sesto Campano al fine di ottenere dalle compagnie assicurative delle loro automobili il pagamento di tariffe inferiori a quelle dei luoghi d'origine. In totale dall'inizio dell'anno salgono a 91 le residenze fantasma in provincia di Isernia. La cultura della legalità economica è il tema scelto a Termoli dalla finanza nel corso di due incontri con gli alunni e docenti del secondo e terzo circolo didattico. I militari hanno relazionato le azioni a contrasto dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, spaccio di droga, falsificazioni e contraffazioni. La politica della Giunta regionale ha fossato la sanità pubblica in favore delle strutture private. Il dottor Lucio Pastore torna sulle condizioni del pronto soccorso dell'ospedale di Isernia, ormai al limite del collasso. Dottor Lucio Pastore, potrebbe essere una domanda banale, ma quanto è malata questa sanità molisana? Diciamo che è quasi comatosa per quello che stanno facendo. viene da un lungo periodo di malattie, di decenni, ma la botta finale sembra che gli ultimi medici la stanno dando in maniera cospicua e importante. Ecco, lei ha invitato il Presidente della Giunta regionale a visitare l'ospedale di Isernia e in particolar maniera i locali del pronto soccorso. Ma dovrebbe essere un atto fondamentale per chi mette mano ad un sistema andarsi a rendere conto di persone di quali siano le condizioni. Noi l'abbiamo denunciato da tempo, potevamo anche dire palle, quindi qualcuno che venisse a verificare le cose che noi affermiamo, se siano vere oppure no. Sarebbe stato utile il voler costruire un sistema senza rendersi conto delle difficoltà, senza rendersi conto dei disagi che crea, senza rendersi conto delle decine di persone che aspettano buttate su barelle per giorni e dire che adesso il problema è risolto, beh, siamo nel mondo della fantasia. Ecco, ma c'è una cura per tutto questo? Ma la cura è la scelta politica. C'era in questa regione venuto un commissario che aveva proposto un piano possibile per risolvere il problema, Carmine Ruta. Noi avevamo dato anche il consenso quando Frattura venne a dirci che quello era il suo piano, perché ci sembrava che andava nella direggiazione giusta, improvvisamente sparito sia Ruta che quel piano e si è andato in tutt'altra direzione. Quindi evidentemente la volontà politica nella privatizzazione del sistema non può arrivare ad efficientare davvero quello che è il sistema sanitario. Le procedure per l'approvazione in Molise del bando del primo insediamento in agricoltura destinato all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani sono a parere del centro-destra opinabili e poco chiare, complessi poi i criteri per l'assegnazione degli oltre 5 milioni di finanziamenti del PSR. Più di 300 giovani agricoltori stanno rinunciando alla possibilità di partecipare ai bandi pubblici. L'opposizione in Consiglio regionale presenterà una interrogazione per conoscere i particolari sulla formazione della graduatoria. Domattina a Campobasso dinanzi alla sede del Consiglio regionale i rappresentanti dei comitati Isernia Domani e Laboratorio Progressista saranno presenti per affermare il principio acqua bene comune e per opporsi alla proposta di legge per l'istituzione del Legam. I comitati chiedono alla politica che la futura società di gestione sia in affidamento diretto e senza gara ad un'azienda speciale partecipata da tutti i comuni molisani. Nasce nell'ambito del progetto europeo Rural Deer Agenda del Convegno su Biosviluppo e Biodiversità alla sede del Dipartimento Universitario di Agricoltura. Un progetto europeo nella sede del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università degli Studi del Molise e di quelli che sostengono gli interventi degli Stati europei per contribuire allo sradicamento della povertà in quei luoghi dove le persone per vivere necessitano della massima attenzione della piena solidarietà. Biosviluppo e Biodiversità scelte consapevoli per il rispetto del territorio la tutela della biodiversità per la salute e per l'ambiente per la salvaguardia del creato. Questo il titolo scelto. Il progetto si chiama Rural Deer Agenda è un progetto europeo quindi finanziato dall'Unione Europea la tematica principale è l'educazione allo sviluppo l'educazione allo sviluppo mira a sensibilizzare i cittadini su tematiche quali il rispetto dei diritti umani la cooperazione fra paesi avanzati in via di sviluppo la responsabilità sociale, l'acquisto etico e solidale l'acquisto di beni e prodotti che mirino a rimborsare il produttore a dare il giusto convenzo di quello che produce siamo qui per parlare di biosviluppo e biodiversità perché questo progetto Rural Deer Agenda di cui è partner la Regione Molise ha finanziato delle piccole azioni pilota quattro a livello regionale fra cui questo è sul loro biosviluppo e la biodiversità il progetto vede sette partner europei quindi vede come capofila la provincia di Valladolid di Spagna l'Università Spagnola di Valladolid e altri partner scientifici e operativi da altri sei paesi europei speriamo che il progetto porti alla realizzazione di un'agenda per l'educazione allo sviluppo un documento politico programmatico che miri a definire un quadro normativo per la realizzazione di nuove attività e altri progetti sull'educazione allo sviluppo nella nostra regione ma è in Europa L'Unione degli studenti molisani si dichiara in netta opposizione al protocollo di intesa alternanza scuola-lavoro con il fast food McDonald's lavorare per una multinazionale tutt'altro che formativo scrive l'Unione come può offrire la reale formazione una multinazionale accusata di sfruttamento deforestazione, disastri ambientali obesità e cancro per alternanza di qualità si intende acquisire il saper fare presso enti che tutelano i loro lavoratori o che rispettano le norme ambientali poiché gli studenti non sono mano d'opera gratuita Dal mese di giugno Trenitalia rimodulerà i servizi sulla linea adriatica e la tratta Molise-Puglia avrà un nuovo orario Da Termoli il treno partirà alle 7.48 per arrivare alle ore 9 a Foggia Il servizio tra Termoli, San Severo e Foggia è svolto oggi con 12 treni 6 per direzione e 6 autobus sostitutivi Mediamente in un giorno feriale i passeggeri trasportati sono poco meno di 400 1.100 invece i posti a sedere Il disastro del bacino idroelettrico del Vaionti il 9 ottobre del 1963 provocò nel Veneto la morte di 1917 persone e danni stimati all'epoca per circa 900 miliardi di lire Uno spettacolo andrà in scena domani al Teatro Risorgimento di Larino prodotto dall'Associazione Culturale Overture Un evento per riflettere sulla necessaria sicurezza delle opere pubbliche Nuove proposte culturali, formative e didattiche per gli alunni dell'Istituto San Pardo di Larino Una nuova occasione di crescita venerdì con un appuntamento che riguarda il ricordo della tragedia del disastro del Baionti Sì, sarà una mattinata in cui i ragazzi assisteranno ad uno spettacolo teatrale presso il Cinema Teatro Risorgimento Questo momento rappresenta una tappa intermedia del percorso di studio che i ragazzi hanno condotto finora sul dissesto idrogeologico e che prevede naturalmente una specifica attenzione alle discipline tecniche di indirizzo e anche un'apertura più su tematiche più latamente culturali che saranno oggetto di attenzione attraverso la partecipazione a questo spettacolo e addirittura anche un viaggio di istruzione programmato nei siti del disastro del Baionti Per l'Istituto San Pardo quanto è importante la tutela del territorio, la cura dell'ambiente? È importantissima perché è alla base di uno degli indirizzi del corso di studi che il San Pardo ospita e quindi fa parte del patrimonio tecnico-culturale specifico che i ragazzi devono tesaurizzare prima di introdursi, di mettersi nel mondo del lavoro quindi occupa un posto centrale questo aspetto L'emarginazione è il tema di quest'anno a Larino della manifestazione Libriamoci, esperienza formativa rivolta agli studenti delle scuole medie del centro frentano San Martino in Pensilis e Porto Cannone appuntamento oggi è martedì 4 aprile nella sede dell'Istituto Tecnico Agrario San Pardo E restiamo ancora a Larino al via un'altra tranche di lavori pubblici per la messa in sicurezza delle strade interne per un importo di 200.000 euro I primi interventi sono partiti in via Adriano Lualdi finalizzati a migliorare la viabilità esterna nella zona dell'ospedale Vietri In quest'area verrà quindi realizzato un marciapiede e sarà predisposto l'impianto per l'illuminazione pubblica Nelle prossime settimane sono previsti interventi nel centro storico in via Circonvalazione e nei pressi del terminal autobus L'ARPA ha promosso un sistema di biomonitoraggio con api da miele Obiettivo? Testare la qualità e la salubrità degli ambienti che circondano le comunità Al via in Molise è un innovativo sistema di biomonitoraggio attraverso l'impiego di api da miele per analizzare la contaminazione ambientale delle produzioni agricole in particolare nell'area del nucleo industriale di Termoli Un progetto promosso dall'ARPA Molise attraverso un protocollo d'intesa con l'Università degli Studi del Molise volto alla tutela della biodiversità favorendo l'incremento della produttività agricola e prestando attenzione alla qualità e alla salubrità dell'ambiente che circonda le comunità Ruolo fondamentale è quello ricoperto dall'ape da miele che con il suo lavoro si colloca alla base della produzione agricola infatti circa il 90% delle piante coltivate spontanee si avvalgono dell'impollinazione entomofila delle api con conseguente miglioramento quantitativo e soprattutto qualitativo delle produzioni L'insetto insieme ai suoi miele, cera, polline, propoli, pappa reale è il più completo biosensore in grado di fornire una mole notevole di dati sullo stato di salute dell'ambiente contribuendo alla sua possibile certificazione Le api sono in grado di segnalare l'eventuale danno chimico subito dall'ambiente in cui vivono attraverso una loro alta mortalità e per i residui che si possono riscontrare ed accumulare nei loro corpi a seguito di analisi di laboratorio Tenuto poi conto che il raggio medio di azione delle api può arrivare anche a 2 km dal rispettivo alveare si riescono ad acquisire dati di un territorio molto vasto fino a 6-8 km2 L'ARPA Molise è la prima in Italia a dotarsi di una rete di biomonitoraggio permanente mediante l'ape da miele Ad oggi risultano installate ben 5 postazioni, 3 al nucleo industriale di Termoli una nel centro della cittadina adriatica ed una nell'oasi liquo di Casa Calenda La Casa degli Angeli di Campobasso gestita dalla Caritas è una realtà che ogni giorno offre numerosi servizi a persone che vivono in difficoltà Pasti caldi, possibilità di soggiornare in un ambiente decoroso e pulito assistenza sociale e prestazioni sanitarie gratuite La Fondazione Giovanni Paolo II donerà alla struttura d'accoglienza i pasti che non vengono consumati in ospedale un gesto di solidarietà a favore di coloro i quali non hanno nemmeno la certezza di mangiare quotidianamente I processi di ripresa per gli utenti e le famiglie nei servizi di salute mentale questo è il tema dell'incontro odierno al centro di urno per pazienti psichiatrici di Isernia nella giornata diversi gli interventi previsti ad opera di psicologi e tecnici della riabilitazione della cooperativa abruzzese solidarietà e vita di Sant'Egidio alla vibrata l'assessore alla cultura del comune di Campobasso Emma De Capoa ospite del nostro programma settimanale Focus per fare il punto della situazione dei tre anni di mandato per gli impegni progettuali futuri La situazione culturale nella città di Campobasso i progetti e gli impegni di questi primi tre anni di amministrazione battista nelle parole dell'assessore alla cultura Emma De Capoa ospite del nostro Focus in onda questa sera su TLT Molise Quando ho avuto questo incarico io mi sono trovata catapultata in un altro mondo in un mondo completamente diverso da quello che caratterizzava la mia vita e oltretutto devo anche dire che nella mia vita ho fatto delle scelte e sono stata anche fortunata a fare delle scelte per cui a poter fare delle scelte quindi trovarmi assessore in un'amministrazione devo dire la verità in un primo momento mi ha creato dello sconforto perché non sapevo veramente da dove iniziare poi ho cominciato leggendo quelle che erano le linee programmatiche e le linee che il sindaco Battista aveva promosso durante la sua campagna elettorale e da lì quindi sono partita mi sono rifatta anche un po' a quelle che erano le linee programmatiche degli assessori che mi avevano preceduta e poi strada facendo naturalmente ho cominciato ad acquisire anche una certa autonomia e una certa dimestichezza quindi ho capito anche avendo molti contatti con i cittadini, con gli studenti ho capito quali erano le tematiche su cui bisognava focalizzare in modo particolare l'attenzione e quali erano gli ambiti in cui bisognava fare cultura azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli Regione e il distretto Molise orientale tornano alla Borsa internazionale del turismo di Milano dopo nove anni dal 1980 la BIT è appuntamento imperdibile per gli operatori del turismo e quest'anno la Borsa si presenta con numerose iniziative che terranno alta l'attenzione dal 2 al 4 aprile la BIT sarà vetrina anche per gli studenti delle scuole molisane l'iniziativa voluta dall'azienda di soggiorno e turismo mira a far raccontare agli studenti il paese di appartenenza attraverso diversi elaborati i nuovi volti della corruzione e le attuali modalità di contrasto se ne discuterà questa sera alle 18.30 all'hotel San Giorgio a Campobasso un incontro organizzato dal Rotary Club dal romanzo il casellante di Andrea Camilleri lo spettacolo in programma questa sera alle ore 21 sul palco del Teatro Savoia del Capoluogo una vicenda metaforica dove si ride e ci si commuove una proposta della Fondazione Molise Cultura siamo adesso alle previsioni del tempo giornata soleggiata oggi in Molise temperature comprese tra i 6 gradi la minima a Campobasso e di 20 gradi la massima di Sernia venti moderati provenienti da nord-ovest leggermente mosso il mare Adriatico condizioni stazionari dalla sera ancora sereno domani sulla regione a Campobasso adesso la pagina sportiva in Italia si sta affacciando con sempre maggior interesse il calcio a 6 una disciplina più conosciuta nei paesi dell'est Europa a giugno nella Repubblica Ceca si svolgerà il nuovo campionato europeo la panchina della nazionale italiana è stata affidata al tecnico campano Massimo Barometro Massimo Barometro tanti anni nel calcio a 11 prima quello giocato poi quello allenato adesso una nuova sfida nel calcio a 6 cosa sarà? sarà una novità per me ma sarà una novità penso per quasi tutti perché è un sport chi mi ha contattato Salvatore Grigoli è uno sport che nelle altre nazioni è molto sviluppato qui da noi è un pochino di meno più a 5 e non a 6 però è un calcio rispetto al calcetto è un calcio più propenso per i calciatori e non per i giocatori di calcetto di calcetto in futsal e cosa prevale più l'aspetto tecnico tattico o atletico? in questo caso tutti e tre perché le dimensioni del campo sono diciamo come la metà campo ed è 2 metri più grandi del campo di calcetto e allora ci vogliono tutti e tre i fattori che tu hai elencato perché il calciatore e noi quello di futsal è più abituato rispetto al giocatore di futsal perché le distanze sono un pochino più più marcate diverse però dovrebbe essere una bellissima esperienza perché per esempio in altre regioni io parlavo prima con Salvador si sta sviluppando più il calcio a 8 in Italia e noi il calcio a 6 in questa regione no perché non c'è neanche un campo di calcio a 8 però in tante altre regioni italiane si sta sviluppando più quello diciamo che è una via di mezzo con grandezze come tutto e allora la porta è un po' più grande rispetto a quelle calcetto sì ci sono delle regole particolari però è più più adatto a chi gioca a calcio e non a calcetto a fine stagione agonistica per il calcio quindi a inizio estate la trasferta campionati europei a Brno cosa aspetta Massimo Barometro e che tipo di nazionale italiana sarà? Sarà intanto una nazionale italiana con tanti fattori l'amicizia il gruppo e poi la qualità tecnica dei calciatori e cercheremo di fare il risultato migliore possibile perché comunque veniamo da da 3-4 manifestazioni dove non si siamo comportati benissimi speriamo di fare bene perché sarebbe pure un vanto per noi perché è una cosa bellissima perché è un campionato europeo noi siamo una nazionale dunque è una cosa bellissima in questa nuova disciplina nuova quantomeno per il Molise a livello europeo chi eccelle? Bielorube Kazakistan che è la squadra e poi la Romania perché è pentacampione in Romania mi hanno detto che è lo sport nazionale e sono 5 volte su 6 manifestazioni che sono diventate campioni d'Europa dunque è una nazione propensa a questo tipo di calcio poi c'è la qualità tecnica perché i rumeni tecnicamente sono un po' come noi italiani cambiamo disciplina si sono svolte a Larino le finali regionali dei giochi sportivi studenteschi di Pallapugno nella palestra dell'istituto agrario San Pardo hanno partecipato le scuole medie e superiori del Molise vediamo qui le immagini nella categoria ragazzi maschile ha vinto la scuola media di Ururi diretta dal professor Vincenzo Croce che ha superato gli istituti delle vicine Petacciato Palata Monte Cilfone e Guglionesi nella categoria cadette femminile ha trionfato la scuola di Guglionesi e per le allieve il liceo di Larino allenate dalla professoressa Patrizia Cola Giovanni gli incontri sono stati diretti dalla docente Pina di Giacomo Ad Isernia domani sera è previsto il primo stage di Pugilato per l'arrivo del campione professionista di pesi massimi Sergio Romano atleta con una lunga carriera alle spalle a livello nazionale ed estero lo stage si svolgerà nella palestra Energy della città alle ore 19 e 30 e questa è la nostra ultima notizia grazie è tutto a questa sera grazie Musica